Oh, iiii. Mariana. Quello è Mariana. Chi è questo? Baby. Questo è Baby, giusto? Baby e Nina. Chi è quello? Giorgio. Giorgio? E questo? Mariana. Mariana. Baby. Baby? Animal. Animal. Filippo. E? Sabrina. Felipo e Sabrina. Giusto? Mama. Chi è quella? Yenina. Mmh. Chi ha fatto questo per Baby? Chi ha fatto quello con il palloncino? Ti ricordi chi ha fatto quello? Lui ha fatto. Giorgio. Chi ha fatto? Chi ha fatto必abe? Chi no. Chi ha fatto già. Chi è? Chi?